La fama Non è un'anomalia porcaiola dello showbiz ma il solito prodotto made in Hollywood. Roberto D'Agostino per la stampa. Caro direttore, sarà pure una proiezione dell'immaginario collettivo, ma quando il diavolo creò la celebrità non pensava davvero di mettere in moto l'afrodisiaco più forte al mondo il fenomeno sociale più buio e insondabile. Soprattutto cannibalesco. Perché è tipico dello star system essere onnivoro, tutto ciò che riguarda i suoi personaggi gli appartiene, tutto fa parte della sua scena e del suo mito. Harvey Weinstein non è un'anomalia porcaiola dello showbiz ma il solito prodotto made in Hollywood, erede della sordida tradizione che vede i magnati del cinema abusare del loro potere. . E sì, da sempre, la gloria comincia sul sofà, che era il mobile più importante nell'ufficio di Daryle F. . 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